questo ufficiale rinnovo annuale per lorenzo sperotto sarà ancora della rosa soddisfatto immagino sì certo sono molto soddisfatto e felice per questo rinnovo e sono contento appunto di stare qui un altro anno a trento come andata la tua prima stagione beh è stata una stagione di grande crescita individuale e comunque è stata molto positiva appunto per per aver fatto un'annata con grandi campioni e con un grande allenatore come angelo ecco ne saranno altri di campioni anche nella prossima stagione però intanto i tifosi di trento hanno scoperto più che altro dal video non dal vivo perché non si poteva che sei dotato anche di un'ottima battuta non solo di un ottimo palleggio sì certo questa è stata un po l'arma che ha usato un po di più in partita che ha usato anche angelo e a cui mi ero mi ero reso disponibile ad utilizzare in campo e sono però sicuramente sarà da migliorare anche quella e quindi quindi niente sarà una squadra molto giovane forse ancora più semplice per per te trovare il feeling giusto con lo spogliatoio avere voglia di lavorare si sarà la squadra giovane questo anche questo secondo me è una cosa buona perché sarà un motivo in più per creare un grande gruppo e quindi sono felice anche di questo ancora un po di vacanza poi da fine agosto si riparte immagino carico si molto carico e non vedo l'ora di iniziare la buona estate intanto grazie